Mi piace davvero tanto costruire il robot, ma come tutti sapete può essere davvero frustrante assemblare un milione di piccole parti per costruire soprattutto la mano del robot. E dato che mi sono stufato, ho deciso di risolvere il problema. Dopo vari tentativi, mille errori e delle stampe venute più o meno così, ho disegnato un grip per un robot che può essere stampato in un unico pezzo. Non ha bisogno di montaggio. Lo prendi direttamente dalla stampante, ci ficchi dentro il servomotore ed è pronto per essere usato. L'unica vite di tutta la costruzione è quella che va attaccata al servomotore. Essendo un pezzo unico, non ha movimenti tra le parti, non balla quando è assemblato, non ci sono viti molli, niente di tutti questi problemi. Oltretutto può essere anche scalato e stampato per accomodare diverse misure di servomotore. Trovate il link in descrizione per stamparlo. È un'ottima soluzione per fare un robot veloce che funziona. Sono molto contento di questo grip, mi ha risolto un sacco di problemi. Ovviamente però ora non sono più felice di tutto il resto del robot e dovrò ricominciare tutto da capo per farlo tutto con meccanismi flessibili. Mi rimetto a disegnare.